Massimo Castagnari ancora una sconfitta per la compagnia portuale, questa volta contro il Fiumicino. Primo tempo di dimenticare, nel secondo tempo anche avete fatto qualcosa per recuperare il passivo. Ma sì, sicuramente abbiamo regalato un tempo. È normale che pronti via, prendere un go del genere, per l'infortunio del ragazzo, sicuramente non è che ti abbia aiutato. Però il primo tempo su tutte le seconde devalle sono arrivati sempre prima loro. Ci siamo troppi nervositi, abbiamo cercato il fatto, quello che non dovevamo fare. Poi al secondo tempo un pochettino le cose sono migliorate, però quando vai a stringere ancora non siamo equilibrati, siamo stati troppo nervosi, non siamo tranquilli. Dico soltanto che partiamo con due partite a zero punti, sicuramente sono quelle situazioni e ti calano subito in questo campionato se ancora non c'eravamo calati. Tutte le partite che vengono non è che siano facili quelle che verranno, però noi dobbiamo trovare un pochettino di tranquillità, risettare un attimino e metterci lì a combattere facendo quello che la categoria poi richiede. Brunetti come sta? A Brunetti sicuramente una cosa seria. Il dolore del genere ha detto non ho mai sentito, quindi sicuramente sarà una cosa importante. Però dispiace, dispiace perché si è riparata la gara in un certo modo e sicuramente un po' la situazione avversa un po' al primo tempo e un copriso a freddo non ci ha aiutato, anche perché il secondo tempo l'abbiamo preso su un'apertura della barriera. Sono tutte piccole cose che ci vengono contro. Io dico che non stiamo facendo bene, però sicuramente non è che la fortuna ci dia una mano. Come sbaglia una leggerezza prendiamo golle, quindi sicuramente non gira bene e questa è una tendenza che dobbiamo invertire.